Salve a tutti ragazzi e benvenuti sul canale Darkness504 Eccoci qui con un nuovo video E' di saputo ormai da alcune ore che Microsoft ha acquistato Mojang Cioè la casa, la software house produttrice di Minecraft Le mie opinioni sono che secondo me da oggi in poi Minecraft diventerà più un gioco commerciale E non guarderà più la creatività del videogiocatore E infatti anche lo stesso Notch, fondatore e creatore di Minecraft Era qualche mese fa in un tweet Ha scritto che la Microsoft ridicolizza i suoi prodotti Quindi andremo a vedere per novità Seguitemi e un saluto